ben trovati al nostro appuntamento con a tutta salute per oggi parleremo dei della salute dei denti del bambino e quindi anche tutto il percorso diciamo che deve fare devono fare mamma e bambino per tenere per la cura dei denti lo facciamo con la dottoressa valentina cocco ben trovata dottoressa buonasera a tutti allora cosa si intende per l'odontoiatria pediatrica allora l'odontoiatria pediatrica è quella branca dell'odontoiatria che si occupa proprio del paziente pediatrico ovvero il paziente in età evolutiva che è necessario seguire sin da quando molto piccolo per tutta la crescita fino all'adolescenza oggigiorno inizia a diciamo diffondersi il concetto dell'odontoiatria pediatrico perché fino a pochi anni fa l'odontoiatria era vista come una disciplina che si occupa sia del paziente adulto che del paziente pediatrico indifferentemente invece così come accade proprio anche nella medicina nell'odontoiatria abbiamo l'odontoiatra specializzato nella cura dei adulti e l'odontoiatra specializzato nella cura dei bambini il nome dell'odontoiatra specializzato nella cura dei bambini è il pedodonzista e che viene affiancato dal ortodonzista per quanto riguarda poi il trattamento delle malocclusioni perché scegliere di rivolgersi all'odontoiatra pediatrico e non al dentista generale cioè preferire l'uno piuttosto che il dentista generale insomma il dentista che a cui si rivolgono anche gli adulti per quanto riguarda un bambino crede sia un discorso solo d'approccio oppure proprio un discorso anche di metodo allora l'approccio è sicuramente importante perché il paziente pediatrico è sicuramente un paziente sensibile molto più dell'adulto necessita quindi di personale che lo curi attraverso un approccio psicologico di cui poi probabilmente vi spiegherò meglio nel dettaglio di cosa si tratta ma la cosa importante sono anche le competenze le competenze sono proprio completamente diverse dal punto di vista proprio clinico e terapeutico le problematiche che riscontriamo nei bambini sono diverse dalle problematiche che riscontriamo negli adulti e anche il trattamento è diverso e soprattutto ricordiamoci che con il bambino noi abbiamo un soggetto che evolve nel tempo che muta quindi anche la situazione del suo cavo orale si modifica nel tempo per questo motivo l'odontoiatra pediatrico conosce delle come si può dire delle competenze che non sempre sono alla portata dell'odontoiatra generico che magari specializzato invece nell'implantologia piuttosto che nella medicina estetica nella odontoiatria estetica ogni professionista ha un ruolo davvero importante per la salute del bambino l'ostetrica in primis dopo il pediatra il dentista l'odontoiatra pediatrico insomma tutte queste figure hanno un ruolo davvero importante mi incuriosiva quando prima ne parlavamo che lei diceva anche l'ostetrica davvero un ruolo importante e anche il pediatra per quanto riguarda la salute orale del bambino perché allora è ancora prima del pediatra sembrerà strano ma è proprio l'ostetrica che può entrare in campo quindi istruire durante i corsi pre parto oppure durante l'adegenza in ospedale nel post partum la madre o comunque la futura madre a quelle che sono le manovre di igiene orale iniziali che dovrà poi per attuare sul neonato quali sono allora la blocco subito la fermo subito quali sono quindi queste manovre che spesso sono sconosciute forse ne avevamo accennato in una delle prime puntate già qualcosa con la dottoressa con appunto già prima c'era venuta a trovare una dentista di conseguenza ne avevamo parlato ma quali sono queste manovre se vogliamo ricordarlo allora per quanto riguarda le manovre la prima cosa importante è sapere che non solo bisogna pulire i dentini quando questi rompono quindi circa tra i quattro e sei mesi o in alcuni casi anche più tardi ma è necessario già iniziare a pulire anche con una garzina leggermente umida le gengive del bambino questo per eliminare la cosiddetta candida orale tipica del bambino che ha un sistema immunitario ancora non completamente sviluppato ed efficiente e allo stesso tempo abituare anche il bambino a far sì che la madre possa occuparsi della salute del suo cavo orale. Una volta spuntati i dentini non è necessario per forza utilizzare lo spazzolino o non è necessario per forza utilizzare il dentifricio anzi sconsigliatissimo nei primi mesi di vita finché non imparano a non ingerirlo ma è importante anche solo con il dito di gomma che troviamo facilmente in farmacia spazzolare gengive e i primi dentini. Oltre all'igiene bisogna anche occuparsi del tipo diciamo di alimentazione o meglio evitare quelle abitudini che purtroppo oggigiorno sono ancora in voga come può essere quella di utilizzare il ciuccio imbevuto nel miele piuttosto che nello zucchero per calmare il bambino. Certamente diciamo l'edulcorante può attenuare o calmare il neonato ma questo anche se utilizzato molto nei primi mesi di vita comporta poi delle lesioni cariose importanti che si sviluppano poi negli anni successivi. Che uno non pensa che già dai primi giorni di vita ai primi mesi di vita possa influire così tanto queste possono influire così tanto queste abitudini. Sì perché un'abitudine che viene iniziata ancora prima dell'eruzione del primo incisivo e viene poi perpetuata nel tempo perché si diventa un po' dipendenti di conseguenza nel momento in cui questi denti spunteranno e verranno a contatto con o camomille zuccherate piuttosto che il ciuccio il miele oppure il lattamento al seno prolungato soprattutto notturno fino anche ai 4-5 anni purtroppo di questi casi ne vediamo veramente tanti creano un danno al tessuto duro del dente proprio perché il liquido edulcorato comunque fermenta sulla superficie del dente soprattutto durante la notte per effetto del labbro che trattiene questi liquidi a contatto con la superficie dello smalto e fa sì che si formino queste carie molto precoci e molto invasive che portano alla formazione di lesioni cariose da un aspetto brunastro anche nero e sgretolamento per dirlo in termini molto semplici del dente stesso nel corso dei primi anni di vita si chiama sindrome baby battle syndrome quindi la sindrome da baby ron biberon oppure che possiamo chiamarle anche carie precoci dell'infanzia quindi adesso poi pediatra che ruolo ha perché passiamo poi al pediatra il pediatra ha un ruolo informativo il genitore deve essere a conoscenza già dei primi anni della necessità di portare il bambino all'età circa dei due anni e mezzo tre anni dal dall'odontoiatra quindi se noi informiamo i genitori possiamo prevenire tante tante patologie del cavo orale è la scarsa informazione piuttosto che la sfortuna diciamo così che porta ad avere delle lesioni del cavo orale all'interno della bocca di un bambino molto importanti quindi il pediatra informa indirizza verso un odontoiatra pediatrico quindi importante anche che ci sia una rete di odontoiatri pediatri è quello che noi odontoiatri pediatrici stiamo cercando di sviluppare proprio in questi anni in questo modo informa indirizza e segue insieme all'odontoiatra nel tempo l'evoluzione e la crescita del bambino sia dal punto di vista dentale sia dal punto di vista scheletrico parlando riferendoci chiaramente all'apparato stomatognatico quindi un ruolo informativo ruolo anche d'accompagnamento per le famiglie per le famiglie che magari non sanno quanto sia importante rivolgersi subito all'odontoiatra pediatrico al dentista sin dai primi anni quindi due anni due anni e mezzo ha detto la prima visita il primo controllo perché è così importante iniziare presto due anni due anni e mezzo anche tre è il momento migliore per portare il proprio bambino dall'odontoiatra proprio perché l'odontoiatra fornisce tante informazioni circa le manovre di igiene orali circa quelle quello che è quelli che sono i tempi della permuta cioè quando spunteranno i primi dentini quando spunteranno i primi denti permanenti perché curare i denti da latte che ruolo hanno questi denti da latte cosa sono le sigillature tuttora tante mamme vengono a conoscenza della necessità di eseguire le sigillature dei primi molari permanenti tra i 6 7 anni per un passaparola perché fuori dalla scuola si parla con le altre mamme e allora vengono a conoscenza della necessità di fare queste sigillature esistono anche proprio delle linee guida del ministero della salute emanate nel 2014 quindi ecco è prettamente informativo c'è poi anche l'approccio e l'aspetto diciamo psicologico perché è importante abituare il bambino a un ambiente che conosce in un primo momento all'età di 2-3 anni che rivede periodicamente ogni 6 mesi rivede l'ambiente in cui va a fare la visita ma rivede anche la stessa persona questo fa sì che si instauri un rapporto di conoscenza e poi di fiducia oltre che con la famiglia con i genitori anche col bambino che permette qualora negli anni ci sia necessità di intervenire per delle cure piuttosto che per della semplice prevenzione permette al bambino di ritrovarsi in un ambiente conosciuto in cui è rilassato un modo per familiarizzare esattamente è un modo per familiarizzare un approccio psicologico quasi inconscio in questo caso perché invece l'approccio psicologico del bambino quando questo giunge in prima visita quando è già più grande richiede molto più impegno sia dal punto di parte dell'operatore quindi dell'ontoiatra sia dal punto di vista del bambino ma anche dal punto di vista del genitore se noi questo approccio psicologico lo facciamo inconsciamente a partire dai due anni tre anni tutto si semplifica e tutto viene affrontato con più serenità anche perché il bambino iniziando appunto le prime visite a due anni e mezzo tre quando è molto piccolino è piccolo sicuramente vede tutto questo come una cosa naturale come devo andare perché da sempre sono andate quindi c'è anche un'abitudine si sa che i bambini sono anche molto abitudinari quindi crea un'abitudine un rapporto di fiducia e quindi anche la naturalezza con la quale viene vista questa viene vista la visita piuttosto che controllo aiuta sicuramente anche qualora ci dovessero essere dei problemi e bisognasse insomma intervenire ma l'approccio psicologico che deve avere l'odontoiatra pediatrico cioè il dentista e l'odontoiatra pediatrico insomma con i bambini cosa si deve fare qual è l'approccio migliore bisogna rassicurarli bisogna utilizzare metodi o strumenti particolari oppure che altro si può fare allora l'approccio parte sicuramente dall'ambiente l'ambiente condiziona molto la psicologia del bambino per cui è importante creare un ambiente favorevole con per esempio una sala d'attesa dedicata al bambino con dei giochi che possono diciamo distrarlo comunque durante l'attesa e fargli capire che è un ambiente vicino a lui non è un ambiente ospedaliero che magari può creare timore e ansia nel paziente che sta per essere visitato quindi in prima battuta l'ambiente già gioca già un ruolo importante gli operatori sanitari che ci sono quindi gli assistenti anche oppure anche il personale amministrativo anche queste persone devono essere istruite ad accogliere i bambini l'accoglienza è anche lì un ruolo è una parte molto importante per quanto riguarda l'approccio in senso lato e poi passiamo alla parte operativa anche qui l'odontoiatra ovviamente ha un modo di approcciarsi che fa sì che il bambino si senta un po' diciamo coccolato dall'odontoiatra è importante mettersi sempre al loro livello anche fisicamente quindi abbassarsi soprattutto se si tratta di bambini molto piccoli e io dico sempre bisogna fare tutto con il gioco ma non per gioco quindi il gioco è la chiave vincente dell'approccio psicologico loro devono essere catapultati in una realtà che può essere una realtà fantastica per cui c'è la poltrona che si trasforma in un'astronave ci sono diversi magari peluscio personaggi dei supereroi che possono aiutarci a diciamo socializzare bene col bambino e far sì che lui si senta in un ambiente sereno tranquillo e che quindi sia anche predisposto ad ascoltare quello che noi andiamo a chiedergli e quindi il gioco è importantissimo anche il genitore gioca ruolo importante nell'approccio psicologico e qual è qual è l'approccio del genitore come deve avvicinarsi al bambino e risolvere magari le sue paure oppure come gestire la paura di un bambino perché si sa che ogni bambino è a sé e come tale ha le sue paure oppure anche le le fantasie fantasie diverse quindi come gestire tutto questo allora il genitore chiaramente ha un istinto protettivo nei confronti del bambino e spesso diciamo scarica la sua ansia sul bambino anche quando costui non è assolutamente agitato e preoccupato a volte si sbaglia si proiettano le paure di noi adulti sui bambini magari siamo noi primi a aver paura del medico piuttosto che del dentista inconsciamente si trasmette questa ansia questa paura questa è una situazione che io riscontro quotidianamente spesso il genitore non sa ancora che l'odontoiatria moderna è diversa dall'odontoiatria di tanti anni fa per cui anche l'approccio ma non soltanto con i bambini ma anche con gli adulti è completamente cambiato quello che chiediamo al genitore è di essere di essere un attento osservatore quindi di stare può stare all'interno della stanza deve stare all'interno della stanza in prima visita assolutamente perché deve ascoltare e recepire tutte quelle informazioni quelle lezioni che appunto noi andiamo a spiegare però la cosa importante che non interferisca troppo con il bambino e l'odontoiatra nel senso che l'interferenza del genitore il voler diciamo gestire lui questa situazione magari un pochino nuova per il bambino fa sì che non si instauri un corretto rapporto anche soltanto di ascolto tra il bambino e l'odontoiatra quindi è importante che il genitore osservi tranquillo la presenza del genitore rassicura sicuramente il bambino e allo stesso tempo sempre appunto abbiamo detto quindi bisogna anche cercare di capire quando è necessario quando no esatto in alcuni casi sono pochi casi in cui il genitore decide di stare fuori dalla sala operativa e quindi rimanere in sala d'attesa è una cosa che magari nel tempo riusciamo ad ottenere spesso è il bambino stesso che chiede al genitore di rimanere fuori questo avviene quando quando il bambino si è diciamo ha preso confidenza con l'ambiente si sente a suo agio magari ha già ha già eseguito alcune cure in precedenza e per questo in questo momento il bambino diciamo che è una fase importante per il bambino questa perché supera una prova quindi è un momento di crescita i genitori non devono sentirsi diciamo messi in disparte quando o l'odontoiatra o il bambino stesso chiedono al genitore di uscire di attendere in sala d'attesa devono quello che spiego sempre io essere contenti di questa cosa vuol dire che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo cioè far affrontare al piccolo paziente le cure con serenità anzi spesso capita che i genitori dicano non vedeva l'ora di venire dal dentista questo mi riempi di orgoglio bella conquista esatto perché magari sono pazienti che le prime volte non entravano neanche dalla porta proprio perché magari non avevano mai fatto delle cure non avevano mai neanche provato il mal di denti quindi tutto ciò che è noto è ignoto spaventa però il genitore fa a volte l'errore di spiegare al bambino in termini con i propri termini quello che è la situazione che andrà a verificarsi quello che chiedo al genitore è di non preparare nessun modo il paziente alla seduta in primo luogo perché non sa effettivamente come quale può essere soprattutto se si tratta del primo bambino non ha avuto mai esperienze precedenti non sa qual è l'approccio e in secondo perché luogo proprio perché non sa neanche a volte qual è la diciamo la quale sarà poi effettivamente la terapia che andremo ad eseguire quindi istruiamo i bambini ma istruiamo anche i genitori e è bello vedere che poi nel tempo ti seguono e affidano alle tue cure il particolo paziente che nel frattempo cresce anche quindi un consiglio è proprio quello di ha detto prima di non spiegare cosa andrà a fare appunto l'odontoiatra col bambino ma è anche quello di cercare di far vivere con naturalezza questo questo aspetto è così esattamente così come vado a tagliarmi i capelli regolarmente o vado a non so dall'oculista a fare fare una visita oculistica deve entrare la visita odontoiatrica entrare nella routine del bambino cioè i bambini vanno visti semestralmente o quadrimestralmente in base alle situazioni ai vari ai casi e è proprio la continuità che permette al bambino di affrontare le cure con serenità forse quando è cambiato molto questo aspetto di cura in ogni ovviamente in ogni situazione rispetto tanti anni fa e forse a volte sembra più difficile riuscire a portare i bambini da un medico da uno specialista ma forse perché sono più fragili gli adulti oppure perché è così cambiato e così in evoluzione il mondo della medicina e ed altro allora sicuramente come accennavo prima la concezione dell'odontoiatria moderna non è ancora ben chiara a tutti per cui spesso il genitore è frenato in partenza perché ha un ricordo magari di quelle che sono state le sue esperienze magari negative e nell'infanzia per cui già non porta il bambino o arriva a portarlo solo nel momento in cui abbiamo un'urgenza trattare il bambino vedere il bambino la prima volta in urgenza è ciò che noi pedodonsisti non ci auguriamo mai perché diventa difficile gestire improvvisamente sia la parte psicologica che la parte clinica per questo chiediamo di fare prevenzione cioè di abituare il bambino alla nostra figura al nostro ruolo alle nostre cure e di non intervenire mai in un primo momento o per la prima volta comunque quando abbiamo un'urgenza e diciamo che i bambini spaventati sono spaventati normalmente per due motivi il primo o perché hanno ascoltato esperienze negative di altri bambini tipiche che si riferiscono durante l'orario scolastico oppure proprio perché il genitore ha trasmesso questa ansia al bambino l'altro motivo è che può far sì che ci può portare a trovarci di fronte a bambini spaventati e quando questi hanno avuto esperienze negative precedenti questi sono i pazienti più difficili da gestire devi non devi partire da zero devi partire da meno zero meno 10 proprio perché c'è tutta una fase di recupero della fiducia e poi da lì si può partire esatto quindi pazienti pediatrici diversi va tutto bene si riesce a far capire al bambino non devi aver paura e quindi sia il bambino che la famiglia vi segue in altri casi cosa si fa come si tratta un paziente pediatrico veramente difficile da trattare la famosa sedazione cosa si intende per sedazione di cosa si tratta quali sono le preoccupazioni che ha un genitore quando si dice meglio sedare il bambino piuttosto che fare questo intervento o curarlo in questo modo certamente quando l'approccio psicologico da solo non basta abbiamo la possibilità di avvederci dell'utilizzo della sedazione cosciente con protossido d'azoto è una tecnica in realtà che risale al diciatesimo secolo quindi di vecchia di due secoli ed è molto efficace proprio perché ha una capacità analgesica e sedativa proprio il fatto che diciamo venga utilizzata da circa due secoli fa sì che sia una tecnica sicura validata senza effetti collaterali importanti viene utilizzata su adulti bambini permette con il suo effetto analgesico sedativo di rilassare il paziente che si sente più tranquillo elimina quella che è l'ansia il paziente rimane cosciente per cui collabora con l'operatore risponde al comando fa delle domande se deve fare delle domande e lo stato di coscienza viene diciamo mantenuto per tutta la durata della seduta questo fa sì che anche il genitore sia tranquillo proprio perché la prima volta che si propone la sedazione cosciente il genitore spesso è scettico una volta che gli si spiega che è comunque una tecnica validata consolidata si utilizza anche durante il travaglio nelle donne che stanno per partorire questo rasserena molto il genitore e anche perché gli effetti collaterali in realtà sono lievi e transitori si verificano solo nel 10 per cento dei casi si tratta di una sonnolenza piuttosto che euforia si chiama anche gas esilerante perché a volte i bambini iniziano a ridere non riescono a fermarsi è possibile che che sopraggiunga della nausea per questo chiediamo al piccolo paziente di arrivare a stomaco vuoto proprio perché soprattutto per le sedute più lunghe può dare questo tipo di effetto collaterale in ogni caso sia negli adulti che bambini questi effetti come dicevo prima sono lievi e transitori non rappresentano delle controindicazioni per non poterlo utilizzare quindi possono stare assolutamente tranquilli i genitori quando si parla di prevenzione per quanto riguarda un paziente pediatrico cosa si intende l'abbiamo già accennato prima abbiamo già accennato prima qualcosa ma vogliamo approfondire questo argomento prevenzione significa proprio evitare di dover arrivare al punto di dover eseguire delle cure nel cavorale del bambino la prevenzione diciamo che si si esplica attraverso l'igiene orale quindi l'istruzione motivazione e igiene orale quindi il paziente va indirizzato anche all'igienista che oltre a fare una pulizia del cavo orale spiega sia il bambino che al genitore quelle che sono le manovre di igiene orale quindi come spazzolare con cosa spazzolare spazzolino elettrico piuttosto che spazzolino manuale e questo diciamo è la base abbiamo poi la possibilità di fare quello che dicevo prima la sigillatura dei molari permanenti i molari permanenti sono dei denti che spuntano tra i 6 e 7 anni nel cavorale del bambino spesso i genitori non sanno che spuntano e non si accorgono neanche che questi denti spuntano perché perché sono in fondo quindi compaiono e spuntano dietro all'ultimo elemento deciduo non di solito non ci si accorge proprio perché la loro eruzione è spesso asintomatica se ne accorge o il pediatra se attento che comunica il genitore che è il momento di eseguire le sigillature oppure proprio questi controlli che dicevo semestrali o quadrimestrali che vengono messi in atto dalla prima visita per tutto il tempo di sviluppo del bambino ci permettono di intercettare quello che è il momento ideale per eseguire la sigillatura la sigillatura dei solchi lei aveva forse qualche immagine di quelle ecco per questa immagine che ci aiuta a capire di cosa si tratta quello che vediamo a sinistra è un primo molare appena rotto con la parte più diciamo gialla all'interno sono i solchi che sono proprio quelle zone che vengono facilmente attaccate dai batteri quindi la zona in cui principalmente si sviluppa la carie dentale nell'immagine di destra invece vediamo lo stesso dente dopo la sigillatura è una tecnica mini invasiva preventiva che ci permette di con una resina molto fluida andare a posizionare questa resina sopra al solco in modo da rendere il solco più liscio più facilmente spazzolabile evitare che lì si formino e si fermino i residui alimentari si formi la placca e di conseguenza poi la carie sono denti che si cariano anche a distanza di pochi mesi dall'eruzione perché perché sono in fondo sono difficili da spazzolare e proprio per una questione anatomica hanno dei solchi molto profondi e questi li rendono più suscettibili alle lesioni cariose chi lava i denti al bambino cosa deve fare diamo dei preziosi suggerimenti a chi ci sta ascoltando ecco questa è una domanda cui rispondo tutti i giorni sempre più spesso però è una domanda in realtà che faccio io al genitore perché mi rendo conto che quando arriva un bambino in prima visita e vedo così tanta placca mi chiedo difficilmente sarà stato il genitore a lavare questi denti perché è impossibile trovare così tanta placca dopo aver lavato i denti e la maggior parte delle volte la risposta è li lava da solo ecco anche lì lavare lasciare che il bambino si lavi i denti da solo sicuramente è un modo per stimolare la loro autonomia il loro desiderio l'autonomia sin da piccoli ma anche verso i 6 7 8 anni loro hanno voglia di diventare grandi di crescere di conseguenza non possiamo ostocolarli in questo loro desiderio di rendersi autonomi è anche vero che però così come non sanno scrivere bene così come non fanno sanno fare tanti movimenti di fino anche lo spazzolamento richiede una certa tecnica di conseguenza non può essere affidato completamente al bambino è importante almeno fino ai 9 anni dicono le linee guida che il bambino venga aiutato dal genitore nello spazzolamento dei denti sia che esso venga fatto con spazzolino manuale o ancor meglio con lo spazzolino elettrico quindi lo fa il bambino ma poi è importante che i genitori lo rifaccia come se il bambino non l'avesse fatto la frequenza dello spazzolamento è sempre quella di tre volte al giorno comunque dopo i pasti come dicevo prima lo spazzolino elettrico aiuta il dentifricio aiuta sicuramente il movimento dello spazzolino quindi il movimento delle setole sulla superficie dentale lo scivolamento ma è meglio preferire un buon movimento rispetto rispetto a un buon dentifricio così esattamente lo è proprio la rimozione meccanica della placca sulla superficie dentale che fa sì che si abbia una buona igiene orale il dentifricio veicola lo spazzolamento se contenente fluoro aiuta perché previene il fuoro abbiamo detto che è un agente rimineralizzante desensibilizzante e antibatterico quindi previene insieme allo spazzolamento la formazione delle lesioni cariose negli adulti e nel bambino e anche volevo dire lo spazzolino elettrico aiuta molto rispetto allo spazzolino manuale quindi importante non delegare tutto al bambino ma rifarlo come se loro non l'avessero non l'avessero fatto denti da latte quando è che cadono come si dice ti cade il primo dentino da latte quanto allora per quanto riguarda la permuta degli elementi dentari assistiamo tra i sei come vedete nell'immagine tra i sei e gli otto anni al cambio prima degli incisivi inferiori che vedete in verde e poi degli incisivi superiori sempre che vedete in verde nella parte alta dell'immagine e questo avviene tra i sei e gli otto anni in corrispondenza dell'eruzione dei primi molari permanenti di cui parlavamo prima dagli otto anni fino ai dieci anni circa si assiste a una fase di stallo della permuta ovvero avremo la compresenza dei denti permanenti appena rotte e ancora degli elementi decidui in particolare il canino e i due premolari tra i dieci e i dodici si esplica la seconda fase della permuta in cui si va a permutare il canino e i due premolari che fanno spazio ai due premolari permanenti e al canino permanente diciamo la sequenza della permuta si è più o meno uguale per tutti i bambini quello che può cambiare è la tempistica perché ci sono bambini che iniziano a cambiare il primo dentino a cinque anni ci sono bambini che iniziano a cambiare il primo dentino a sette anni questo perché dipende dal momento di eruzione del primo dentino da latte ci sono bambini neonati che in cui spunta il primo dentino tra i 4 e 6 mesi così come vediamo bambini in cui il primo dentino spunta a un anno un anno e mezzo quindi varia molto da bambino a bambino una per una un'eruzione dei dentini da latte precoce corrisponde a una permuta precoce un'eruzione dei dentini da latte tardiva corrisponde a una permuta tardiva la cosa importante è non allarmarsi fare una visita solo nel caso di ritardi ruti particolarmente tardivi per rita è una radiografia che ci permette di andare ad individuare eventuali agenesie cioè mancanza dei denti permanenti che sono sempre più frequenti quindi diciamo 6 7 anni e la media per il primo dentino da latte che se ne va però anche 4 io vedo anche bimbi di 4 5 anni che magari perdono già il primo dentino è normale anche questo questo essere precoce oppure ci deve spaventare anche l'essere troppo precoce del bambino 4 anni è veramente raro può essere 5 invece siamo ancora nel range della della normalità nel fisiologico diciamo anche perché veramente ci sono bambini che mettono il primo dentino quattro mesi di conseguenza è normale una permuta dell'incisivo inferiore a 5 anni fanno a gara loro di solito tra compagni di classe e ci sono dei bambini che sono anche un po sconfortati dal fatto che non hanno ancora cambiato i dentini ecco la cosa importante quando quando il primo campanello d'allarme cioè dopo gli otto secondo lei quando è che bisogna allarmarsi quindi ricorrere ad una rx radiografia dopo gli otto anni quando magari non sono ancora comparsi gli incisivi superiori è bene allarmarsi perché l'eruzione dell'incisivo superiore può non verificarsi o per assenza di spazio o per assenza del dente permanente ma in questi casi spesso il dente da latte persiste inarcata quindi non cade oppure perché abbiamo magari un elemento sovranumerario quindi un dentino in più che ostacola l'eruzione di questo dente ci può essere familiarità in questo assolutamente il papà o la mamma hanno problemi di conseguenza anche il bambino ha quella tipologia di problema assolutamente sì soprattutto nel caso delle agenesie perché la genesia del dente permanente ovvero la mancanza della gemma del dente permanente risente moltissimo della genetica quindi la familiarità per questo tipo di problematica è assolutamente anche da comunicare all'odontoiatra in fase di prima visita per appunto tenere monitorato il bambino si può essere una situazione in cui si richiede una radiografia diciamo precocemente uno dei pochi casi proprio per indagare questo tipo di di anomalia primi e ultimi dentini come abbiamo detto prima quali crescono dopo quali sono insomma la storia dei denti che se ne vanno e che arrivano iniziamo con gli incisivi inferiori a seguire gli incisivi superiori quindi quattro incisivi inferiori quattro incisivi superiori spesso gli incisivi laterali superiori che sono gli ultimi della serie degli incisivi a dover rompere sono quelli che possono fare più fatica a scendere la maggior parte delle volte proprio perché la mancanza di spazio fa sì che questi che sono gli ultimi ad arrivare non abbiano lo spazio necessario per rompere proprio perché gli incisivi centrali molto grandi differenza dei dentini da latte portano via molto spazio questo può essere un diciamo un motivo per indirizzare poi il paziente pediatrico all'ortodonzista dopo gli incisivi abbiamo detto abbiamo una fase di stallo per l'arcata inferiore dopo i nove anni e mezzo dieci avremo la permuta del canino prima e poi seguentemente dei due premolari inferiori primo molare primo premolare inferiore e secondo premolare inferiore nell'arcata superiore la sequenza la sequenza viene leggermente modificata perché prima permutiamo il primo premolare superiore poi il secondo premolare superiore e da ultimo il canino il canino superiore è normalmente l'ultimo dente che andiamo a cambiare ed è anche quello così come funziona per gli incisivi laterali superiori che spesso a fine permuta si ritrova con poco spazio ed è spesso risulta essere fuori dall'arcata leggermente ruotato proprio perché può essere che i suoi compagni dentini non abbiano lasciato lo spazio anche per lui spesso tra i bambini che mi circondano vedo che magari dondola il dentino però non non va via però nel frattempo sta crescendo il dente nuovo cosa si deve fare ad esempio io la mia nipotina che succede tutti i dentini succede così quindi ha il dente nuovo però sopra il dentino da latte lei lo vuole togliere è un bene lasciarglielo oppure dobbiamo toglierlo questa situazione dei denti io li chiamo in doppia fila è abbastanza comune si verifica soprattutto per quanto riguarda gli incisivi inferiori questo perché quando il dente permanente per quanto riguarda gli incisivi inferiori in particolare è ancora all'interno dell'osso quindi non è ancora rotto normalmente si localizza più verso la lingua più lingualmente e può seguire due tragitti o migra in avanti va a posizionarsi al di sotto della radice del dente da latte e poi piano piano salendo e rompe e quindi scalza riassorbe la radice del dente da latte e prende il suo posto oppure prima e rompe e ritroviamo i dentini proprio in doppia fila l'incisivo da latte davanti e l'incisivo permanente dietro e poi piano piano migra in avanti andando a progressivamente anche qui riassorbire la radice e far dondolare il dentino da latte questa seconda situazione è una situazione che fa sì che per un periodo anche abbastanza lungo questo dentino da latte rimanga inarcata insieme al corrispondente dente permanente soltanto quando dopo diversi mesi si nota che il dentino da latte non ha alcuna mobilità allora è necessario estrarlo per facilitare il movimento il tragitto del dente permanente non è una situazione patologica è però uno delle maggiori diciamo situazioni che creano ansia e apprensione nei genitori soprattutto sempre quando si tratta del primo figlio perché è una situazione che spesso non ci si spiega e spesso accade sì allora perché quindi è importante curare anche il dentino da latte ricordiamolo quindi perché tanti dicono ma no e tanto il dente latte cade perché ecco i denti da latte sono molto importanti proprio perché come vi ho spiegato non cadono tutti subito ci sono dei dentini che sono incisivi che diciamo ci lasciano abbastanza presto ma ci sono i premolari da latte canini che vengono permutati tra i 10 e i 12 anni ci ritroviamo spessissimo con bambini molto piccoli di 3 4 anni con premolari da latte cariati spiegare al genitore perché questi denti devono essere curati non è sempre facile però spiegandoli che questi dentini servono per masticare quindi prima di tutto devono rimanere in bocca perché la funzione masticatore è importante è importante curarli anche per evitare terapie antibiotiche ricorrenti che potrebbero essere evitate semplicemente attraverso la cura di questi denti eseguire un'otturazione a quattro anni vuol dire non ritrovarsi a sei anni con un ascesso del dentino da latte che va prima curato con la terapia antibiotica e poi trattato endodonticamente quindi prevenire terapie antibiotiche non evitabili quindi non strettamente necessarie ma soprattutto il ruolo del dentino da latte è quello di mantenere lo spazio per quelli che saranno i denti permanenti proprio perché siccome tra i sei sette anni spunta il primo molare permanente e questi dentini da latte sono esattamente davanti al primo molare permanente qualora questi dentini da latte dovessero essere estratti perché hanno delle carie penetranti e questi denti non sono più recuperabili cosa si verificherebbe il molare permanente se non posizionato mantenitore di spazio migrerebbe ne avanti andrebbe quindi a eliminare lo spazio per quello destinato al denti permanenti e andrebbe a complicare una situazione portando il bambino inevitabilmente verso la strada per l'ortodonzia quindi cosa si intende per ortodonzia l'ortodonzia è quella specializzazione dell'odontoiatria che si occupa dell'occlusione dentaria e della funzione masticatoria entriamo quindi subito nel vivo malocclusioni malocclusioni le malocclusioni si distinguono in diverse classi l'occlusione corretta è un'occlusione dove tutti i denti sono a contatto e si incastrano le cuspidi si incastrano tra di loro esistono poi delle malocclusioni di seconda classe dove spesso osserviamo un'arcata superiore che è più avanti rispetto all'arcata inferiore in realtà più spesso è l'arcata inferiore che non si è sviluppata correttamente quindi risulta retrusa o viceversa una terza classe in cui abbiamo una arcata inferiore che si è sviluppata molto è un'arcata superiore che invece rimane indietro si è sviluppata poco queste malocclusioni devono possono essere trattate devono essere trattate per ogni tipo di malocclusione abbiamo un timing specifico ci sono delle malocclusioni come per esempio le terze classi quelle con il morso cosiddetto inverso dove gli incisivi superiori si trovano posizionati lei aveva qualche immagine riguardo questo che così magari le commentiamo insieme e facciamo vedere anche ai nostri telespettatori di cosa si tratta quindi magari ecco se vuole illustrarci nell'immagine a notiamo un'occlusione corretta quindi una cosiddetta prima classe nell'immagine c come vi dicevo prima una seconda classe dove l'arcata superiore risulta avanzata rispetto a quella inferiore mentre nell'immagine d vediamo come l'arcata inferiore sia più avanti rispetto all'arcata superiore abbiamo anche esatto una ripercussione di questa malocclusione a livello dentale scheletrico su quello che è l'aspetto del profilo quindi il volto il profilo ci dà tantissime informazioni la prima immagine a sinistra della seconda classe notiamo un mento che è indietro quindi retruso quindi un profilo convesso la prima classe notiamo un'armonia del profilo mentre nella terza classe a differenza della seconda abbiamo un profilo concavo con un mento che sporge molto in avanti e una mascellare superiore quindi anche la parte zigomatica molto arretrata ecco quando e come intervenire abbiamo detto diverse età diversi modi alcuni esempi perché penso che sia difficile magari precisare ogni esempio insomma illustrare ogni esempio però alcuni dei delle maggiori problematiche se ci può spiegare la malocclusione che va trattata molto precocemente è la malocclusione di terza classe dovrei avere un'immagine la successiva probabilmente forse la successiva chiediamo alla regia di mandarcele che tanto poi sappiamo può essere questa questa è l'immagine corretta questa è un'immagine di un paziente in terza classe con un sviluppo mandibolare importante è una ipoplasia mascellare superiore cosa vuol dire una arcata superiore molto contratta che non si è sviluppata correttamente come di conseguenza abbiamo anche un effetto dentale o meglio notiamo che gli incisivi inferiori sormontano gli incisivi superiori quando invece dovrebbero essere proprio questi incisivi superiori a sormontare e a ritrovarsi davanti agli incisivi inferiori le terze classi vanno trattate precocemente perché la mandibola inizia a crescere molto presto e continua a crescere per cui è importante bloccare la crescita mandibolare e stimolare d'altra parte invece la crescita in avanti del mascellare superiore un'altra malocclusione che è bene trattare tra i 7 e gli 8 anni è il morso crociato latero posteriore il cosiddetto palato stretto questa immagine che vedete è proprio un esempio di morso crociato dove vedete che l'arcata superiore che dovrebbe abbracciare su tutto il perimetro l'arcata inferiore in realtà sul lato di nostro lato di sinistra dell'immagine risulta che l'arcata superiore è all'interno rispetto all'arcata inferiore come vedete il molare superiore i premolari superiori quasi non si vedono il momento migliore per trattare questa malocclusione è tra i 7 e gli 8 anni si fa attraverso l'espansione del palato con apparecchiatura preferibilmente fissa che sviluppa in senso trasversale ecco quello che vedete in alto sinistra è l'espansore palatale cementato in questo caso ai molari permanenti ma preferibilmente ai molaretti da latte in questo caso non erano disponibili questa espansione ci permette di allargare il palato ed avere come effetto la correzione del morso crociato latero posteriore la necessità di questo tipo di apparecchiatura è veramente alta perché il morso crociato posteriore è una malocclusione che riscontriamo veramente molto spesso quindi dottoressa trattamento e poi anche l'attenzione al post trattamento nel senso che proseguire comunque non è che si mette si mette lo strumento insomma si tratta e poi basta ci si dimentica quando uno sembra che abbia appunto la diciamo che si sia sistemato il problema che abbia risolto il problema non è così perché bisogna comunque ricordarci di trattare e controllare giusto? esattamente questo tipo di malocclusione che abbiamo visto nelle immagini precedenti riguardano malocclusioni che vengono trattati in una fase iniziale quindi con la cosiddetta ortodonzia intercettiva che intercetta la problematica spesso questo tipo di malocclusioni necessitano poi di una seconda fase di trattamento a fine permuta con la classica ortodonzia fissa diciamo vestibolare cioè in metallo come questa piuttosto che con l'ortodonzia invisibile attraverso gli allenatori trasparenti sono diverse tipologie di trattamento dell'ortodonzia nel paziente adolescente nel paziente adulto che come ben dicevi alla fine del trattamento necessitano comunque di una contenzione questo perché i denti sono sottoposti comunque a delle forze per cui il movimento cambiando anche crescendo no? cambiando proprio lo spazio sì diciamo che la nostra bocca è un equilibrio di forze per cui la contenzione permette ai denti di rimanere nella posizione ottenuta alla fine del trattamento con l'esecuzione e comunque alla fine del trattamento ortodontico abbiamo ancora pochissimi minuti dottoressa perché davvero ci sarebbe da parlare per ore e ore e ore di questi argomenti prima di dare appunto i suoi riferimenti così magari il pubblico la può contattare direttamente quando si parla di ortodonzia invisibile è corretto, ho detto correttamente o ho sbagliato qualcosa? è assolutamente corretto l'ortodonzia invisibile è un po' la nuova frontiera dell'ortodonzia abbiamo l'ortodonzia cosiddetta linguale cioè quegli attacchi ortodontici che si applicano all'interno della superficie della superficie dei denti oppure abbiamo la possibilità di utilizzare degli allinatori trasparenti che sono delle mascherine che vengono applicate progressivamente come quella che vedete qui nell'immagine sono delle mascherine trasparenti che si adattano alla forma dell'arcata e che se utilizzate in modo progressivo attraverso delle forze appunto producono un movimento dentale il loro effetto si sovrappone all'effetto della terapia ortodontica tradizionale ha come vantaggio un vantaggio estetico soprattutto nell'adulto è molto consigliato e raccomandato ma ha anche il vantaggio di poter eseguire una corretta igiene orale proprio perché la mascherina va portata tutto il giorno tranne quando si mangia e è possibile rimuoverla per portare a termine le manovre di igiene orale quotidiane come può contattarle il nostro pubblico? mi trovate sulla pagina facebook e instagram dottoressa valentina cocco oppure contattarmi tramite email all'indirizzo valecocco chiocciola hotmail.com dottoressa io l'aspetto qua ancora per un'altra puntata perché davvero sono molti gli argomenti che potremmo trattare insieme quindi grazie davvero per essere stata con noi grazie grazie a voi e grazie a tutti voi per averci seguito come sempre appuntamento sabato prossimo alle ore 17 domenica alle 12 e 30 buon proseguimento arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti